Eccoci qui. Buonasera e bentornate sempre da Martina e Giussi di www.movimaggi.it Sono le 18.30 di mercoledì 13 ottobre 2021 e ci troviamo per fare la dimostrazione del vinile termico di Tessi. Nella fattispecie io e Giussi abbiamo scelto il vinile termico glitterato bronzo. Ok? Però comunque tutti i vinili si comportano in modo uguale. C'è sia quello glitter, quello metal, quello normale che viene chiamato basic e poi c'è il flock. Il flock sarebbe il vellutato. Ok. Allora andiamo subito a vedere come si fa, che così si arriva in un'altra macchina se siamo fatta la dimostrazione. Ok. Noi già abbiamo fatto una prova con una piccola gerberina. Questa qua è una maglietta Mokimaggi in cotone, ma voi potete usarlo su dei bavaglini, su delle tovagliette, su dei rastucci, su un dove pare. Ok? Ok. E noi lo useremo sul pannolenci per la ghirlanda americana. A posto abbiamo scelto il bronzo. Allora, come si fa? Giussi, vieni qua. Fai vedere le mie mani. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Come si fa? Allora, noi abbiamo fustellato il nome mio. Ecco qua. Allora, premessa si può fustellare sia con le bix, quindi con le fustelle alte, e sia con le fustelle metalliche. Scusate le mani, ma mi vengono i geloni coi primi freddi. Abbiamo fustellato il mio nome e abbiamo fustellato degli elementi natalizi. Andiamo a mettere, come ci pare, il taglio. No, a me questa mi piace così, la enna dell'obelix, per esempio. Come diceva Giussi, questa è metallica, queste so... Bix. Poi metto un bel agrifoglio. Pure questa è una Bix. Ok, so pronta. E che dici, ci metto pure un pallino all'agrifoglio? Ok, so pronta. Adesso, che cosa dobbiamo andare a fare? Prendiamo un ferro da stiro, quello che vi pare. E se ci avete il ferro da stiro che contiene acqua, svuotatelo e non usate il vapore. Lo mettete al massimo, lo lasciate arrivare a temperatura. Poi mettete un foglio di carta forno sopra la vostra lavorazione. Eppure qua, non è che dovete andare a stirare. Il segreto è pressare per almeno 10 secondi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mo gli do. Piano, 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 piano. Una scaldata. Qualcuno vedeva male, adesso come vedete. Ok, lasciamo freddare un pochino. Poi adesso che cosa facciamo? Prendiamo delle pinzettine, io in questo caso so delle pinzettine a tucano della Sizzix, e andiamo a spellicolare delicatamente, delicatamente, se viene. Scusa, se non ci vedo, me l'ho appiccina un po' dentro. Perché so' ciecata. Ecco qua. Eh, l'avevo presa. Molto delicatamente. Andiamo a spellicolare il nostro vinile. Guardate quanto è lucido. Così per tutti gli elementi, quindi abbiate un po' di pazienza. Allora, nel frattempo, piccole informazioni. Il vinile, come dicevamo, si può fustellare, si può tagliare a mano o con i plotter da taglio. Tagliare a mano prima te uno fa un disegno. Esatto. Poi, se tagliate con la big shot, la parte glitter, la parte glitterata, deve stare a contatto con la lama. Ok, quindi in base a quale fustella usate. Ho detto al contrario, la parte opaca va in basso. Esatto. Poi, quando lo appoggiate sulla maglia, il glitter è rivolto verso di voi, con questa pellicola trasparente che si sovrappone. Dopo che avete dato la prima stirata, potete togliere questa pellicola. Naccia. Che, essendo trasparente, non si vede. Per questo serve una pinzettina ad hoc. Mi sa che abbiamo fatto la cavolata a suorapporre. No ce la faccio? No. La carta forno va... Allora, se non se ne viene, che faccio? Molto faccio, vedi io, pallino. Taglio. Taglio la trasparente. E' arrivato a 10 secondi solo sul pallino. Ecco, qui va la carta forno. Tra il ferro... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, vai! Tra il ferro e il materiale. Lascio freddare, intanto mi faccio le altre letterine. Monica che chiede, ma avete il vinile? Certo. Certo, Monica. Monica, da una vita. Monica. Il termo da... Ah, no, il termo da poco. Il vinile normale da una vita. Il vinile normale da una vita, sì. Ciao Katia, ciao Tiziana, ciao Raffaella. Il termo, il termo adesivo, cioè questo qui che stiamo utilizzando, nello specifico costa 8 euro il foglio, ed è 50 per 30 centimetri. Quindi potete capire che con un foglio potete fare più e più maglie, bavaglini, o quello che volete. Ciao Maria Rosaria. Ciao Luisella. No, ci fai una cifra proprio? Sì, sì. Ok. Adesso, una volta spellicolato per bene tutta la nostra lavorazione, che cosa facciamo? Andiamo a dare la passata finale fissativa. Quindi, rimettiamo la nostra carta adesiva, però adesso invece che 10, bisogna pressare, non stirare, ma pressare, 15 secondi. Quindi, vai! Ci possiamo muovere, eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15, vai! La passata finale fissativa è importantissima, guardate che mani, mamma mia, che vergogna, scusate. Cioè, i geloni, i primi freddi è un casino. 15, vai! 3, 4, 5, 6, 7, 8. In ogni caso, con il video, vabbè, è tutto molto più semplice. Però, su ogni rotolino di termoadesivo ci sono tutte le specifiche con le istruzioni. Ok. Perfetto, guardate quanto è diventato lucido. E adesso, cosa fondamentale, ormai questo qua non se leverà mai più da sta maglietta. Scusate. Ormai questo qua, da sta maglietta, non se leverà mai più, ok? Cosa fondamentale, però, accortezza fondamentale, che è, prima di passarla a lavare, cioè, prima di metterla in lavatrice, devono passare almeno 24 ore, cosicché la colla faccia bene presa sul cotone, o con l'altro materiale. Quindi aspettate almeno 24 ore per il lavaggio, sia a mano che in lavatrice. Comunque, già con il primo passaggio e il secondo fissativo, ma poi, logicamente, la cosa bella qual è? Non rilascia glitter! Come? Non rilascia glitter! Eccoci qua. No, la carta forno va solo fuori, non va dentro la maglia. No, che dentro? No, 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 no. Quindi, ragazze, comunque è bellissimo dal video, non prende tanto perché col neon gli sbatte solo. Ecco qui il vinile termico che trovate su www.mochimaggi.it Sì. E adesso, visto che ci siamo fatte la fliselina, visto che ci siamo fatte il vinile termico, questa maglietta è bellissima, e grazie Giussi che me la laverai, io me la metterò. Va bene! E, oh, mi sono mangiato i due pallini! Avete un po' di tempo? Noi, se non è arrivata nessuna macchina, attacco i due pallini. Anche se Giussi mi potevi, forse la qualcosa di carino, però... Ma questa è natalizia. Ah, ho capito, ora sono i pallini o che ci faccio? Hai metto i due pallini spazi. Ma poi mi ha fatto la maglietta natalizia che ha a gerbera un cuore. Eh? Ma che berà presetta? Faccio di popua. Dove li metto? Uno sotto, uno sopra? No, sopra. No, non c'entrano niente. Sopra? Così? Sì, così. Ok, allora me li applico. Guardate bene, eh! Lister in su. Ma scusa, li potremmo mettere vicino? Vabbè, va. Potete fare tranquillamente col ferro da stilo, non serve la pressa. Ecco qua, faretto. Qualsiasi ferro. Basta che non sia di quelli... Allora, la prima passata, veloce veloce. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, vai. Ok? Poi, secondo passaggio. Si spellicola. Si spellicola. O spellicola. Terzo ed ultimo passaggio. Andiamo in pressione per quindici secondi. Quindi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. E vai. Dov'è? Dov'è? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. E va. Sempre una maestra di danza. Ok. Ok. Ah, Dio. Ok. Fissato. L'ultimo passaggio è quello importante perché è il fissativo. Ok. Invece Sabrina chiede quanto costa il ferro. Non lo so. Ma che ferro? Il ferro è un ferretto da patchwork comprato così online. Mi pare su Amazon, ho pagato tipo dieci euro, una cavolata, insomma. Ma va bene pure il ferro da casa, eh. Sì, sì. Non mi pare perché c'è la vaporetta, perché sennò mi faccio prestare la sua. No. Si può attaccare anche sulle filpe? Certo, assolutamente. Ecco qua. Questo è vinile di tutti i colori. Di tutti i colori. Vinile termico. Uno, due, tre, quattro. Ecco qua. Hai ricontato bene? Adesso, Giusy. Io la approfitterei perché non è arrivato nessuno.